Dopo il grande successo del premio Palermo Danza, eccoci con la quarta edizione del Sicilia Dance Festival. A differenza del primo Palermo Danza, che è una festa, insomma una vetrina per tutti i ballerini e le scuole di danza, questa volta entriamo nel vivo della competizione, quindi una gara, un vero e proprio concorso, che vedrà protagonisti i gruppi, i assoli e i passi a due di tutte le diverse discipline della danza. Danza classica, moderna, contemporanea, hip hop, idea coreografica, che include tutte quelle discipline non precedente menzionate, quindi per esempio potrebbe essere una fusion, una sperimentazione, balli di gruppo, danza orientale, il caraibico, eccetera. I protagonisti di questa quarta edizione è composta da una giuria d'eccezione, quindi Neke Negretti, Esther Parisi, Gianni Rosaci, Little Fili ed Elisa Parrinello, che avranno il ruolo ovviamente di decretare i vincitori, quelli che andranno sul podio e comunque daranno anche delle importanti borse di studio per tutti i partecipanti più meritevoli. Grande opportunità quindi per i ballerini, perché avranno la possibilità di studiare in scuole di danza, accademie come Roma o Broadway. Il concorso sarà gestito all'intorno di tutta la giornata, la mattina vedremo protagonisti più piccoli, quindi under 14, e il pomeriggio i over 14. Ovviamente vinca il migliore, ma soprattutto divertitevi, perché prima di tutta la danza è divertimento e gioia.